... ... ... ... Minchia Voglio che ti resti il mio disprezzo come mia unica eredità E' pesantissima questa cosa Perché non fumare più? No, fumava prima No, fumava prima Ciao, Sabrina Ciao No, non c'è però Non c'è questo Non c'è questo E' un po' di pioggia 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 Sì, ma faccio vedere Io ti chiedo Anche-vi Anche la ripresa della margherita, la margherita risponde, noi la vogliamo qua, la margherita risponde. E la margherita se la fa sfugare. Non essere volgare. Ah scusatemi, scusatemi se intanto sono volgare. A me hanno detto di convocarti in là. No, ma guarda bene sta foto. Qui c'è l'ultimo della margherita. E questo qua è illegale, però c'è il timore del comune. Cioè praticamente è quello che ho detto io. Se lo vuoi ripetere, dillo. Dillo, dillo. Dillo tu sei coraggio. Che è il manifesto di questo Fledi. Di qua c'è il timo. No, 10 aprile, 2003. Michele, vieni, Michele, vieni. Riprendi questo qua. Vieni, municipio di Ciliano. 10 aprile, 2003, timbrato, fuori dagli spazi. Ma non è, ma dove cazzo è? Qua. Municipio di Ciliano, servizio affissione. 10 aprile, 2003, scadenza. È stato affisso fuori. Vieni, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.